Oggi vi porto in Dardeldor, il porto del centro dell'Inghilterra, e vi mostrerò come prendere un film di money con il OnePlus 5 usando i migliori settori in modo manuale. Per fare questo, bisogna prendere due foto, una durante il giorno e una durante la niente, e poi sceglierlo insieme con il Photoshop app. Prima di tutto, trovo il momento giusto e prenderlo il film. Poi lavorerò in modo manuale, scelto in raw, usando l'isola più alta e un po' sottofondo. A questo punto, devo solo lasciare la camera in posizione e aspettare la niente per prendere, e poi sceglierò la seconda foto nel momento scuro che succederà in circa 5 ore. Questa volta prenderlo con un iso più alto, perché è davvero scuro, e poi prenderlo il tempo più lungo e impostare il focus all'infinito. Questa è già una foto davvero buona direttamente dalla camera, ma con la misura con il film di daylight, potrei poter farlo vedere ancora meglio, aggiungendo dettagli extra a le zone scurre. Ma prima di fare questo, bisogna preparare il film di daylight Ora posso farlo usando l'opzione di overlay e ridurre un po' l'intensità. Nel ultimo, non l'interno, farò aggiungere il film di vignette e farlo anche. E' tutto, la magia è finita! A presto! A presto! A presto! A presto! A presto!